Ciao, sono Francesco, da Fostalpine Buller Welding. Oggi parleremo di parlare di fuma emissione di fuma di flasco e di diamo spark guard e di non-coppera e di ecospark solidi, incontrata nella nostra stazione collaborativa di CobroGuard con le migliori mesi di salute e di salute. Benvenuti per l'esperienza perfetta con me oggi. In particolare, parleremo oggi sulle migliori produttività combinata con le migliori protezioni ambientali e salute. Iniziamo a vedere come facilmente il programma CobroGuard. Il programma CobroGuard Abbiamo incontrato oggi con il nostro processo Rapidipi in combinazione con il nostro guarda Damos Spark guard per 120 MC, con una velocità di incontrata più alta, fino a 50% più. In addition, vedremo il nostro filo non-coppera coattato solidale EcoSpark per 120 MC, incontrata con un processo di velocità di velocità con migliorare la visibilità e niente di silica. Iniziamo! 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 con i fili non coperti coati EcoSpark solidi. Oggi sono soluzioni di processi molto produttive, in additione con il bonus di protezione ambientale già dalla scuola dei nostri fili. L'addizione delle mesi e la fuma estruzione del copro guard risulta nel perfetto che abbiamo visto in tutti gli aspetti. Grazie e ci vediamo la prossima! Fustalpina. One step ahead.